Amici Trevi Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di Trevi. Partiamo dalle immagini del satellite che ci mostrano sostanzialmente un'Italia e un Mediterraneo senza nuvole. Qualche nuvolamento ancora insiste sulle regioni settentrionali ma tende ad allontanarsi. Questo cielo sereno è dovuto a un'area di alta pressione di origine nordafricana che si è posizionata sul Mediterraneo e sull'Italia e che rimarrà ben salda anche nei prossimi giorni. Però alta pressione di origine nordafricana e quindi ancora una volta al rovescio della medaglia è il caldo che si farà via via sempre più pesante. Anche spostandoci verso il weekend sì magari qualche temporale riuscirà a rifare la sua comparsa al nord ma sostanzialmente in gran parte del paese ancora sole protagonista e soprattutto temperature elevate. Vediamole queste temperature ad esempio per la giornata di giovedì con valori ben oltre 30 gradi ma in molte zone anche ben oltre 35 gradi. Ancora volta queste sono temperature all'ombra figurate voi al sole. Ma per sapere nel dettaglio a sto punto quanto caldo farà da voi a giornata scaricate l'app gratuita di 3b Meteo.